Incendio ieri sera alla casa di riposo Giovanni XXIII di Marsala, tutti salvi gli anziani. Quattro castelvetranesi arrestati per furto aggravato tra Mazzara e Campobello. Stamane allarme bomba alla motorizzazione civile di Trapani. Promozioni importanti per gli ex dirigenti della questione di Trapani, Linares e Leogia. Diffidato dalla regione siciliana, il commissario dell'ASP Trapani, Giovanni Bavetta, c'è area di Revoca. Tra poco più di un mese il via alle europiadi che si svolgeranno tra Mazzara e Castelvetrano. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con il Tg8 Informazione. In apertura spazio alla cronaca, tanta paura ma per fortuna nessuna vittima per l'incendio che è divampato ieri al secondo piano della casa di riposo Giovanni XXIII di via Alcidele Gaspari a Marsala causando danni particolarmente intensi. L'incendio è stato domato grazie all'intervento di ben sette automezzi dei vigili del fuoco che hanno messo in salvo i venti anziani, spostandoli in una struttura non interessata dalle fiamme. Il mistero sulle cause dell'incendio, secondo la prima ricostruzione, potrebbe essere partito dalla sala comune. In pratica un anziano potrebbe essersi addormentato con la sigaretta accesa. Ed è stata assolta dal Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, Villa Vicenzio Carmen Gallon Clara accusata di rapina aggravata nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata Coyote che venne eseguita nell'ottobre del 2016 e portò a 14 misure cautelari a carico di soggetti di Mazzara, Castelvetrano e Palermo. In particolare la Villa Vicenzio veniva accusata di aver mediato per l'utilizzabilità di un appartamento sito a Mazzara da parte dei rapinatori dopo la rapina. Il difensore della donna, l'avvocato Maria Roberta Piccione, nella ringa, ha puntualizzato che l'istruttoria non ha consentito di accertare l'attività di mediazione e quindi l'imputata è stata assolta per non aver commesso il fatto. I carabinieri della compagnia di Mazzara e quelli della compagnia di Campobello hanno effettuato quattro arresti, quattro castelvetranesi, in due operazioni diverse per furto aggravato. Sentiamo. I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo, con le sue stazioni ed equipaggi dell'aliquota radiomobile, hanno svolto nella giornata di giovedì 5 aprile 2018 un servizio coordinato di controllo del territorio all'esito del quale sono state tratte in arresto ben quattro persone per il reato di furto aggravato, tre nel comune di Mazzara del Vallo e una in quello di Campobello di Mazzara. In particolare a Mazzara del Vallo sono stati arrestati tre castelvetranesi, Pisciotta Maurizio, di 32 anni, Camerino Danilo, di 34, e Tortorici Gaspare, di 28. I soggetti sono stati sorpresi all'interno di un immobile situato in contrada affacciata dagli equipaggi della stazione dell'aliquota radiomobile dei Carabinieri, sottoposto a vincolo giudiziario, poiché è di proprietà di una società in fallimento per la quale è stato nominato un curatore fallimentare. Chiesti chiarimenti sulla loro presenza sul posto, i malviventi non sapevano dare una risposta esaustiva ai militari, i quali, dopo gli approfondimenti di rito, hanno infatti ricostruito come i soggetti si fossero arbitrariamente introdotti all'interno dell'immobile, asportando numerosi materiali ferrosi, principalmente dai tubi in ferro dell'impianto idrico di quella struttura, raccordi nottone e cavi di rame, tagliati dal Tortorici mediante l'utilizzo di una smeragliatrice collegata al relativo gruppo elettrogeno portato sul luogo per perpetrare più velocemente il furto. Il Camerino e il Pisciotta si stavano invece adoperando per la sistemazione della refurtiva a bordo di un Fiat d'Oblò, di proprietà del Tortorici. Complessivamente oltre 200 kg il peso del materiale edile trafugato è già caricato. A Campobello di Mazzara invece i carabinieri della stazione hanno concentrato la loro attenzione nelle aree rurali, più precisamente incontrato a Uria sorprendendo un uomo, poi identificato in Giovanni Cangemi, 45 anni di Castelvetrano, intento a caricare a bordo del suo ciclomotore numerose piante di carciofi. I carabinieri hanno sin da subito percepito che sul luogo non fosse presente il proprietario e che quei carciofi rifossero stati rubati, quindi provvedevano all'arresto del Cangemi e alla restituzione di oltre 100 kg di refurtiva recuperata all'avente diritto. L'autorizzazione civile di Trapani incontrata a Milo. Intorno alle 10 è arrivata una chiamata anonima con una voce che annunciava la presenza di una bomba e pochi minuti di tempo per uscire prima che la stessa esplodesse. La voce appunto intimava di evacuare la sede e da qui, mentre si stavano svolgendo gli esami di guida, si è scatenato un po' il panico, ma gli allievi dell'agenzia hanno dovuto interrompere gli esami, sono uscite dalla struttura, è scattato l'allarme, sul posto la polizia accompagnata dagli artificieri. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, ma ovviamente speriamo che si sia trattato soltanto di un mitomane. Si si avvia alla conclusione per quel che riguarda il processo che vede imputato il Consiglio Comunale Marsalese Vito Cimiotta, accusato di voto di scambio. Ieri si è tenuta l'ultima udienza, nella deposizione dell'ultimo test prodotto dalla difesa, il test non aveva potuto essere presente nell'udienza del 12 marzo scorso e questa stessa aveva determinato il rinvio alla data odierna del processo. Il difensore di Cimiotta, l'avvocato Pellegrino, ha prodotto un PEC dell'impresa Vivenda, dove si afferma che la stessa non solo non ha mai avuto pressioni per eventuali assunzioni per un posto di lavoro in un centro di ristorazione, ma non ha mai avuto contatti di alcun tipo con il Cimiotta. Rimaniamo nell'ambito della giudiziaria. Il Comune di Petrosino ha chiesto all'imprenditore Michele Licata un risarcimento danni di oltre 350 mila euro. Oltre 350 mila euro solo per il ripristino dell'area sulla quale sono stati effettuati gli interventi e quanto chiede il Comune di Petrosino a Michele Licata nel processo che vede quest'ultimo imputato con l'accusa di lottizzazione abusiva della zona di Torrazza e margine Spolilla di Petrosino. La quantificazione del danno è stata effettuata a seguito di uno specifico incarico conferito dall'amministrazione del sindaco Gaspare Giacalone all'agronomo marsalese Antonella Ingianni. Ma non è finita qui. Sulla base infatti della relazione della Ingianni, prodotta in aula al giudice Chiaramonte, il prossimo 26 aprile dopo la requisitoria del PM Antonella Traenito, i legali di parte civile che rappresentano il Comune, cioè gli avvocati Giuliano Pisapia e Valerio Vartolo, quantificheranno anche il risarcimento per i danni ambientali e d'immagine. Poi sarà il turno della difesa con l'avvocato Carlo Ferracane, a sollecitare la consulenza per la quantificazione dei danni, era stato l'avvocato Pisapia. La condotta dell'imputato, si sottolinea nella delibera di giunta con cui lo scorso 27 marzo è stato affidato l'incarico all'angianni, ha leso fortemente l'immagine dell'amministrazione comunale ed ha alterato una zona del territorio con particolare vocazione turistica per le sue bellezze naturali e quindi ha causato gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali al Comune. All'ex imprenditore leader del settore ristorazione alberghiero, già condannato in primo grado per una maxi-evasione fiscale e truffa allo Stato, si contesta la lottizzazione abusiva finalizzata alla realizzazione da parte del Roof Garden di un caseificio nonché della cementificazione di una zona a protezione speciale. Dai computer sequestrati ai progettisti di Licata sono stati tratti file con progetti di un vero e proprio albergo, con tanto di camere e piscina. La lottizzazione a Torrazza prevedeva uno stabilimento balneare, due grandi edifici, una strada e persino un campo da golf, tutto diviso in tre progetti che formalmente procedevano separatamente, anche se, come ha fatto notare ieri il PM trainito, mentre in aula poneva domanda a uno dei tecnici impegnati nelle progettazioni, le opere realizzate o che si intendeva realizzare erano su aree contigue e tutte proprietà della stessa società. Sembra sempre più vicina la riapertura della Galleria di Segesta sulla 29 Palermo-Mazzara del Vallo. La prefettura di Trapani fa sapere che continua a seguire costantemente lo stato di avanzamento dei lavori. Il responsabile del coordinamento territoriale ANAS, Valerio Mele, ha fatto prevenire una relazione alla prefettura con la quale rappresenta che l'apertura provvisoria della direzione Trapani è prevista per il prossimo 31 maggio, garantendo la transitabilità di entrambe le carreggiate per tutto il periodo estivo. In particolare il cronoprogramma prevede la pavimentazione, l'ultimazione dei lavori di allaccio della cabina elettrica, nonché le verifiche di funzionamento degli impianti. Per quel che riguarda l'accompletamento, comunque bisognerà attendere la fine dell'estate, dove saranno completamente ammodernati anche entrambi sensi di marcia. Singolare protesta ieri a Castelvetrano di due famiglie che si sono incatenati davanti al Comune per lamentare l'assenza di una casa. Addirittura paradossale la vicenda di una delle due famiglie che si era vista assegnare un appartamento e poi se l'è vista occupare. Vediamo cosa hanno dichiarato nelle interviste realizzate ieri da Elion Delicato per Castelvetrano di Oss. Signore, tutti hanno diritto una casa, anche voi chiaramente. Ma come stanno le cose? State protestando stamattina qua davanti al Palazzo Municipale? Sì, perché siamo stanchi delle bugie. Come si chiama lei? Calandrino Maria. A prescindere che a me mi hanno assegnato una casa dopo 15 anni civilmente che sono stata in gradatoria per un alloggio popolare. Finalmente mi ha chiamato il commissario Grimaldi che mi ha dato un appartamento nella via Contrada della Chiesa, l'8-4 Scala C. Siamo andati là, abbiamo tolto i sigili, mi hanno dato finalmente le chiavi, solo che l'appartamento era un po' distrutto, era da sistemare, che tra cui aspettavo la manutenzione della CP di Trapani per valorizzare i danni che c'erano. Da precisare che ho tre bambini, sono solo mio compagno, ho una bambina invalida. Non c'era né caldaia, né luce, né acqua, porte rotte, bagno fuori uso, quindi dovevo sistemarli. Dopo sei giorni una famiglia con quattro bambini, mi ha scassato l'appartamento. Da lì sono successi tutti i problemi di questo mondo perché non li hanno mai buttati fuori, non mi hanno mai permesso di andare là e ribellarmi. Il commissario mi ha sempre dato delle garanzie che mi avrebbe fatto riavere la casa, a parte che mi hanno firmato un'ordinanza di sfratto immediato per questa famiglia dal 31 gennaio, che non hanno mai fatto. Quindi voi siete assegnatari ma non potete occupare il vostro appartamento perché c'è un'altra famiglia. Cosa chiedete allora? Sì, perché loro ci hanno detto che dovevano tutelare questi quattro bambini dandogli un alloggio popolare a Triscina che si doveva aspettare gli sfratti. C'è tutelare quei bambini e i miei figli e io che sono in testa Italia sono fuori. Ma qua è l'ordinanza, non c'è nessuna ordinanza di sfratto, nessun appartamento. Come vanno i fatti? Io sono fuori, la signora che ha commesso il reato è dentro. Non è legale questo? No, non è legale niente, perché non panno rispettare nulla, sono solo chiacchiere. Bene, vedo altri incatenati, vedo questa signora. Allora signora, cosa è successo a lei? Qual è il suo problema? Niente, praticamente da settembre che vengo qui per una casa mi hanno fatto aspettare e ancora niente. Volete parlare con il commissario allora? Sì, stamattina sono venuta per parlare con il commissario perché ci aspettavano, ci avevano detto che erano sicuri dopo le feste che c'era una casa, in effetti non c'è nessuna casa. Voi siete sposati o compagni? No, no, come vengo. Avete figli? Sì, sì, una bambina da sei anni. Voi siete in gradatoria? Sì, sì, sì. E perché non vi danno la casa? Perché ho pochi punti e quindi bisogna aspettare la gradatoria. Quindi è un problema dei punti alla fine? Sì. Perché è un problema dei punti? Sì. Però non si può andare avanti con i punti? Avevano detto che c'era una casa attrice, non giustamente come aveva detto la signora. Niente. La protesta civile dei due signori comunque ha assortito qualche effetto perché ieri le due famiglie sono state ricevute dal commissario straordinario del comune, il dottor Salvatore Calcavo, che ha assunto un impegno personale, entro il 20 aprile le due coppie potranno avere la casa. Infatti per quella data, qualche giorno prima, saranno sgomberate due case a Triscina, case nella disponibilità del comune per sistemazioni temporanee di famiglie in difficoltà. Lo sgombero di queste case permetterà la temporanea sistemazione della famiglia Beltrame e della famiglia che al momento occupa abusivamente la casa già assegnata alla signora Calandrino in modo che quest'ultima possa abitarla come nel suo diritto. Cambiamo argomento. Sono sempre gravi le condizioni della bimba investita a Trapa nel giorno di Pasquetta mentre stava attraversando le strisce pedonali. La bambina è stata presa in pieno da un'auto il cui conducente non si è accorto e non ha potuto rallentare. Si tratta di una bambina di 11 anni di nazionalità cinese ricoverata al Sant'Antonio Abate. Invece la procura ha aperto un fascicolo a carico del conducente per lesioni colpose e un uomo di 33 anni. L'incidente è avvenuto alle 16 di lunedì 2 aprile. Continua a raccogliere adesioni l'attività di sensibilizzazione alla donazione promossa dall'Avis di Marsala preseduta da Isabella Galfano nella sede sociale della Via Abruzzesi. Ieri si sono presentati 20 studenti dell'ITC Garibaldi per sottoporsi al test per la candidatura e diventare donatori. La rinnovata partecipazione al progetto sociale da parte dell'Istituto Commerciale diretto da Sara Garamella è il frutto dell'azione svolta nelle scuole marsalesi da Angela Parrinello, volontari Avis, da Antonella Napoli, associazione Dialogando e Giampaolo Buffa che porta tra le classi la sua testimonianza in favore delle donazioni. Cambiamo decisamente argomento. Due importanti promozioni sono state ottenute da due poliziotti molto conosciuti, Giuseppe Linares e Giovanni Leuci. La loro storia professionale è legata alla questione di Trapini all'ufficio della squadra mobile. Sentiamo nel servizio tratto da un articolo di Rino Giacalone cosa hanno ottenuto come promozioni i due funzionali di polizia. La loro storia professionale è legata alla questura di Trapani, all'ufficio della squadra mobile e per questo le loro promozioni di oggi restano parecchio legate al loro lavoro investigativo in questa parte importante della Sicilia occidentale. Sono la naturale conseguenza della loro capacità e del grande fiuto investigativo. Sono gli investigatori che tra la metà degli anni 90 sino a pochi anni addietro hanno guidato la caccia ai latitanti, hanno scoperchiato gli affari della mafia trapanese tra narcotraffico, politica, imprese e appalti. Giuseppe Linares, in polizia dal 1992, dal 2013 capo della DIA, direzione investigativa antimafia di Napoli, è stato promosso a dirigente superiore. Per lui si apre la prospettiva della prossima attribuzione di un incarico rilevante. Il Viminale potrebbe richiamarlo alla guida di un dipartimento del servizio centrale operativo o anche affidargli una questura. In ogni caso, è il più giovane dei dirigenti superiori della Polizia di Stato. Linares arrivò nel 1992 alla squadra mobile di Trapani. Dal 1996 al 2010 ne è stato dirigente, periodo segnato dalla cattura di numerosi latitanti, a cominciare dal capo mafia di Trapani Vincenzo Virga, poi fratelli Amato di Marsala, Sinacori di Mazzara, Milazzo di Paceco, all'arresto di Salvatore Messina Denaro, fratello dell'attuale ricercato Matteo, per fare alcuni nomi, e artefice con un gruppo di specializzati cacciatori di mafiosi e latitanti delle indagini antimafia Progetto Belice, Rino, Halloween, Golem. Ma non meno rilevanti sono state le indagini, per esempio, contro i fenomeni della violenza contro i minori. Con lui la questura di Trapani inaugurò una sezione all'interno della squadra mobile che ancora oggi si occupa della tutela dei minori da ogni forma di violenza. Linares, dal 2010 al 2013, quando fu promosso primo dirigente, divenne capo della divisione anticrimine sempre della questura di Trapani, in carico che lo vide portare a termine una serie di indagini che portarono al sequestro e alla confisca di beni mafiosi, un lavoro investigativo che portò a sequestri di beni tra gli altri in capo all'ex deputato regionale Pino Gianmarinaro e alla holding della famiglia Morici. Negli ultimi cinque anni ha diretto la DIA napoletana e anche lì segnati da indagini che hanno piegato l'organizzazione mafiosa e camorristica con arresti e sequestri di beni. Giovanni Leucci è invece stato promosso primo dirigente e in polizia dal 1996, l'anno successivo è diventato funzionario della squadra mobile di Trapani, della quale è stato dirigente dal 2010 al 2016, anno in cui è stato trasferito a dirigere la sezione amministrativa della questura di Varese. Le indagini da lui dirette hanno avuto risultati eclatanti come la scoperta di un maxitraffico di cocaina tra la Colombia, la Sicilia e la Calabria e sul fronte del contrasto alla mafia di grande spessore e confermate da sentenze di condanna sono state le operazioni che hanno sgominato le cosche mafiose sorprese mentre tentavano una riorganizzazione. Poi ci sono gli arresti dei latitanti e i colpi inferti fin di recente all'associazione mafiosa, con la scoperta che cosa nostra di Matteo Messina Denaro per sopravvivere era tornata a rivolgersi a mafiosi più anziani. Un uomo di squadra, Leucci ha raccolto la strategia investigativa che sul campo aveva disteso il suo predecessore Linares. Leucci resterà ancora a Varese e dopo la formazione riservata ai primi dirigenti promossi e tra questi c'è anche l'ex capo della Digos di Trapani, Giovanni Pampillonia oggi vice capo della Digos a Palermo, Leucci avrà affidato un nuovo incarico. Trapani potrebbe quindi presto rivederlo in prima linea. Il movimento politico diventerà bellissima, che fa riferimento al presidente Nello Musumeci ha nominato il suo commissario provinciale nella persona di Paolo Ruggeri l'avvocato Ruggeri che da qualche anno è vicino al presidente della regione fu candidato nella lista Nello Musumeci presidente nel 2012 e alle scorse regionali di novembre con la lista diventerà bellissima. Nonostante non abbia in alcun modo proposto la mia candidatura ha dichiarato Paolo Ruggeri, sono stato eletto unanimamente coordinatore provinciale consapevole dell'arduo compito, mi metto al servizio del movimento e del presidente Musumeci che ringrazio per la fiducia. E' stato presentato a Custonaci il volume La mafia dopo le stragi di Attilio Bolzoni. L'autore durante il suo intervento ha saputo affascinare la platea con la profonda conoscenza delle vicende storiche su Cosa Nostra e sulla sua evoluzione fino ai giorni nostri. Hanno preso parte all'evento Roberta Gaetani, nipote di Paolo Borsellino del Movimento Agenda Rosse che ha saputo emozionare nel ricordare le gesta dello zio il professor Enzo Guidotto dell'Associazione Antiracca e Tentuzione di Trapani e l'insegnante Maria Concetto Marino che ha voluto sottolineare l'importanza dell'impegno civile nel contrasto alla criminalità mafiosa. Il commissario dell'ASP Trapani Giovanni Bavetta diffidato dall'assessore alla sanità Ruggero Razzo avviato a quanto pare leader per la revoca. Sentiamo i dettagli. La Regione potrebbe presto licenziare due manager della sanità Giovanni Bavetta e Maurizio Ricò rispettivamente commissario dell'ASP di Trapani e commissario degli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo. Hanno ricevuto una diffida da parte dell'assessore alla sanità Ruggero Razza per irregolarità riscontrate durante ispezioni da parte del personale dell'assessorato. Al centro delle contestazioni lo svolgimento di esami oncologici nel Trapanese e la gestione delle nomine all'interno degli ospedali palermitani. La diffida contro Bavetta avvia così l'iter per la revoca. Bavetta ricordiamo che guida l'ASP Trapanese da quando l'anno scorso è subentrato a Fabrizio De Nicola e arriva dopo un'ispezione partita in seguito a una riunione in Commissione Sanità a Lars. In quell'occasione il deputato Udc Margherita Larrocca Ruvolo ha segnalato alcuni problemi che riguardano l'ASP guidata da Bavetta e i funzionari dell'assessorato inviati sul posto hanno scoperto che molti mesi dopo aver effettuato uno screening oncologico l'ASP non ha ancora comunicato ai pazienti i risultati delle visite. Data la delicatezza degli interventi, il ritardo è apparso grave all'assessorato che dunque ha fatto partire l'iter per la revoca contro Bavetta il quale ora ha la possibilità di rispondere per iscritto con le proprie contradduzioni e invece legata alla mobilità del personale e alla gestione delle unità semplici la diffida è arrivata a Maurizio Ricò, commissario di Villa Sofia Cervello. Il vice sindaco di Campobello Nino Accardo ha preso parte ieri alla manifestazione Insieme per l'autismo promossa in rete dagli istituti scolastici di Campobello e Castelvetrano che si è svolta nel sistema delle piazze in sinergia tra comuni, ASP e 40 associazioni e club service del territorio oltre 100 alunni dell'istituto Pirandello Giovanni Bosco di Campobello hanno partecipato all'evento, alla manifestazione che ha avuto come protagonista il blu, colore della conoscenza e della sicurezza scelta dall'ONU. E sempre a proposito di autismo anche a Partanna come ogni anno aderiranno alla settimana nazionale con uno spettacolo che si terrà il 13 aprile. Nella mattinata gli alunni dell'istituto Ritalemi Montalcini della scuola capuana di Santa Ninfa sfileranno in corteo dal castello Grifeo per raggiungere Piazza Falcone e Borsellino dove metteranno in scena spettacoli e animazioni. Il culmine della giornata sarà poi lo spettacolo Risate e Musica, Fabrizio e Bracconieri in tour in programma alle 21.30 all'auditorium Giacomo Leggio. Parliamo ancora di sanità, Accredia estende le competenze del laboratorio di sanità dell'ASP di Trapani. Scopriamoli. Ulteriori accreditamenti per il laboratorio di sanità pubblica dell'ASP di Trapani da parte di Accredia, sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori. L'ente italiano competente a concedere o revocare accreditamento a livello nazionale dei laboratori di prova. Nel corso dell'ultima valutazione ispettiva effettuata la scorsa settimana, Accredia ha esteso l'accreditamento a nuove matrici e parametri microbiologici per l'acqua di balneazione, per le acque destinate al consumo umano e per gli alimenti. Accredia concede l'accreditamento a un laboratorio quando ne ha accertato la competenza tecnica e gestionale in conformità ai requisiti previsti dalla norma. Il laboratorio di sanità pubblica della Cittadella della Salute, accreditato fin dal 16 febbraio 2012, è una struttura complessa dell'ASP, dipendente dal Dipartimento di Prevenzione, ed eroga prestazioni per offrire un servizio che garantisca un livello tecnico sempre aggiornato e costantemente controllato in conformità ai requisiti della norma. È diretto da Marianna Messana, mentre il responsabile qualità è Francesco Reggina. È un ulteriore tassello, dice il commissario dell'ASP, Giovanni Bavetta, che si aggiunge alle altre eccellenze della nostra azienda, uno strumento sempre più qualificato per il Dipartimento di Prevenzione, per effettuare i controlli e per assicurare l'igiene, la profilassi e la sanità pubblica nella nostra provincia. La biblioteca del Seminario Vescovile, in sinergia con il Museo Diocesano, l'Archivio Storico Diocesano e la libreria El Colombo, in merito all'iniziativa denominata Quale bellezza salverà il mondo dalla scrittura al teatro, è il piacere di invitare la cittadinanza all'incontro con l'autore che si terrà il 7 aprile, quindi sabato, alle 18, presso il Seminario Vescovile. Sarà presente l'autore del libro, il giornalista e scrittore olandese Martin Valaldern, che ha scritto un libro dal titolo Talenti d'Italia. Il noto giornalista da 20 anni è corrispondente del maggiore quotidiano olandese The Telegraph e condirettore del corso di Global Journalism all'Università Uninet 1 di Roma. Ancora iniziative culturali, l'Associazione di Amici della Musica di Mazzara, nel contesto della quarantesima stagione concertistica, presenta un abbraccio a pasta di tango, in scena sabato 7 aprile alle 18.15, al Teatro Garibaldi di Mazzara e ancora con replica alle 20.45. I protagonisti dell'evento i ballerini Stefania Sonzogni e Andrea Possenti con il gruppo musicale Siseli Ensemble. Ancora spettacoli. Domenica 15 aprile alle 18 al Teatro Sollima di Marsala i musicanti presentano figli di Rosa e Ignazio, teatro musicale su Rosa Balistreri e Ignazio Buttitta per la regia di Giacomo Bonagiuso. In scena Rosario Lisma, Guglielmo Lentini, Deborah Messina, Gregorio Caimi, Natale Montauto, Gianluca Pantaleo e Dario Livoti. Ed ancora appuntamenti. Oggi terzo giorno di festeggiamenti in onore di Gesù misericordioso presso la cappella dell'ospedale a Bellagliello di Mazzara. Questa mattina si è svolta la Santa Messa. Nel pomeriggio, alle 15 l'esposizione del Santissimo Sacramento, alle 16 il Rosario, alle 17 il Canto del Vespro, alle 18 la Santa Messa preseduta da Don Antonio Civello. Anche la giornata di ieri si è conclusa con la celebrazione colistica, in quel caso preseduta da Don Francesco Fiorino. Ed apriamo un'ampia pagina sportiva. Cominciamo col calcio. L'allenatore castelvetranese Baldo Raineri, che da parecchi anni vive in Svizzera, è stato ingaggiato dal Chiasso, società che milita nella Serie B Svizzera. La società ha isolerato il presente allenatore, Guglielmo Abascal Perez, e ha nominato appunto Baldo Raineri, 55 anni, un passato da giocatore della Folcore, che già ha guidato altre selezioni alberetiche, come il Mendrisio, il Bias Chesi e il Bellinzona, in Serie A. L'atleta mazzarese Pino Pomiglia, tesserato con l'Associazione Roma Road Runner Club, dopo un periodo di preparazione, parteciperà alla diciottesima edizione della Milano Marathon, che si svolgerà domenica 8 aprile a Milano, con partenza e arrivo nel Corso Venezia. Pino Pomiglia correrà indossando la maglia che riporta il logo della pasta Prima e Luci Fratelli Gallo. La mia partecipazione a ogni gara, ha dichiarato l'atleta, essendo testimonial della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, rappresenta un momento di impegno verso il sociale e la prevenzione. La maratona sarà trasmessa in diretta su Fox Sport, canale 204 di Sky, con replica alle 20.30 sul canale 205. E' ancora volley, arriva ormai una inutile vittoria, vista la retrocessione già matematica, ma una soddisfazione per la Sigel Marsala, che ieri nel recupero della partita che era stata rinviata nei giorni scorsi contro il Perugia, si è preso la soddisfazione di batterle per 3-0, una gara che, come dicevamo, resterà soltanto buona per i fini statistici e per il morale, visto che la Sigel, già con due turni di anticipo, è retrocessa in serie B1. Dal 23 al 27 maggio, tra Mazzara del Vallo e Castelvetrano, prenderà il via la quarta edizione della manifestazione internazionale Le Europiadi, che prevede la presenza di oltre mille atleti non professionisti provenienti da ogni parte del mondo. Sono venuti a trovarci nei nostri studi il presidente della Federazione Internazionale, Giuseppe Colantonio, il presidente della Federazione Italiana, Alberto Guidi. Li abbiamo sentiti, vi lascio con questa interessante intervista. L'appuntamento con le notizie torna puntualmente domani. velocemente perché sarebbe talmente complesso da portare ora. E se noi a questo punto avremo la presenza di rappresentanze continentali dall'Australia, dall'America, paresemente dall'Europa, eccetera, per un evento che si può riassure nella frase i popoli in cammino o il cammino dei popoli. Sono tutte gente appassionata al trekking, all'escursione, a dimarciare senza fini agonizzi, nell'andare in bicicletta, a contatto con la natura, socializzare, eccetera, e si incontrano questi grandi eventi internazionali. Noi abbiamo notato che quando ci siamo proposti per questo evento in Sicilia vi è stato un grande interesse e un grande entusiasmo. Ci siamo accorti che comunque la Sicilia nel mondo ha un suo target, un suo messaggio, un suo riconoscimento che molto si distingue da quello nazionale. Se si candidava all'Italia non aveva lo stesso effetto che ha avuto che si candidava la Sicilia. Ora, in base a questo noi siamo impegnati al massimo per dare il meglio, per fare la più grande riuscita possibile di questa organizzazione che è complessissima sui vari aspetti, in modo anche tale da lasciare al termine un buon ricordo e la voglia di ritornare. Se noi raggiungiamo questo scopo, al di là che sicuramente avremo una bella figura nella sostanza, ma avremo fatto anche un grosso passo avanti di scopo perché noi siamo venuti qua anche per questo, per far conoscere la nostra federazione, ma per far conoscere anche un territorio che merita molto. E anche per noi è stata la stessa cosa. La nostra federazione organizza mille eventi in un anno. Questo è un grandissimo evento, però è un multiplo di altre situazioni in cui noi abitualmente lavoriamo e ci impegniamo con i nostri gruppi, i nostri club, eccetera, così. qui, giustamente, come ha detto il Presidente, si trattava di venire in un territorio un pochino vergine. Ecco, e questo è stato fatto con, diciamo, con molta intelligenza perché noi non siamo qui a fare una manifestazione, noi siamo qui a far conoscere la Sicilia e a far conoscere la Sicilia a coloro che vengono da tutti i continenti, in modo che stimoli in loro il desiderio di tornare. Siamo qui anche per far conoscere il territorio che è un territorio archeologico immenso e che dobbiamo tutti insieme valorizzare di più anche se sono stati fatti finora molti, diciamo, sono state profuse molte energie per questo, anche economiche ovviamente, no? ecco, e il fatto di lasciare la testimonianza non solo di tipo archeologico ma anche territoriale, scherzosamente io ho detto ricercando i percorsi facciamoli passare il più possibile attraverso i nostri vigneti, i nostri, in senso, diciamo, della nostra italianità, eccetera, i nostri vigneti e i nostri oliveti devono ubriacarsi di queste cose e tornare alle loro nazioni dicendo è vero hanno un ottimo olio e hanno un vino meraviglioso. con l'Irenas Gas e Luce dici addio alle brutte sorprese nelle bollette con letture certe ed offerte mirate alle tue esigenze l'energia come vuoi tu a due passi da casa tua sempre a disposizione con professionalità e cura di te chiamaci allo 0923 90 8082 57 o vieni a trovarci in filiale a Mazzara del Vallo sul lungomare Ops numero 25 l'Irenas Gas e Luce risparmio e benessere Ops numero 35 Grazie.